Siamo veramente molto soddisfatti, abbiamo avuto un'affluenza incredibile dal punto di vista dei visitatori, più 20 il primo giorno, più 18 il secondo, su dati comunque molto importanti anche del 2015, ma la differenza che a me piace sottolineare rispetto alle altre manifestazioni fieristiche è proprio questa, nel senso che Made in Steel non è soltanto relazioni di business che pure sono molto importanti, ci sono state, ma Made in Steel ha un'anima, quest'anno l'abbiamo voluta chiamare, il sottotitolo era proprio Stronger Together, ma l'anima di Made in Steel di quest'anno è stata rappresentata dalla riflessione generale relativa agli stati generali dell'acciaio. Ci sono stati dei momenti veramente molto forti, molto interessanti, anche commoventi, e diciamo siamo riusciti a rappresentarla all'interno di questa bella sala conference che abbiamo realizzato, diciamo brandizzandola noi con un filmato davvero molto emozionante che tutte le volte partiva, e che permetteva di entrare in un'atmosfera completamente diversa, perché contano le parole, conta il business, ma contano anche le emozioni che si riescono a vivere all'interno di un altro giorno, che pur essendo molto pesante e faticosa ha rappresentato davvero un nuovo modo di vedere le cose. Noi abbiamo questo motto che ci caratterizza, anche gli stati generali iniziano con questo aforisma, questo proverbio che dice se vuoi tracciare un solco diritto attacca il manico del tuo arato ad una stella. Ecco noi siamo l'aratro, quindi la fatica di lavorare la terra, che è il nostro business, il nostro comprare, vendere acciaio, ma abbiamo anche questa visione che è il tentativo di guardare in alto e di cercare di raggiungere una stella. Tra l'altro il termine siderurgia deriva proprio da stella, quindi ci sta molto bene questo avvicinamento delle due cose. Ecco, questa tre giorni è stata veramente questo, è stata molto bella anche la serata di gala del Museo della Scienza e della Tecnologia, che si chiama Leonardo da Vinci, un genio del rinascimento italiano. Ecco, e tutti questi termini, la bellezza, il genio, i colori, hanno animato questa manifestazione, che è stato veramente un festival delle idee, degli incontri, delle strette di mano, del guardarsi negli occhi, perché è vero che il digitale permette relazioni, incontri importanti, però alla fine serve sempre lo sguardo, l'incontrare il volto dell'uomo o della donna. Grazie a tutti.